Nella grande impresa africana si distinguono le divisioni 23 marzo, 3 gennaio, chiamate divisioni di ferro. Sono fatti che commuovono il nostro animo infantile. È una delle tante pagine di questo quaderno, scritto nel 1937 da Francesca D'Affies, per tutti a Codogne, la maestra. A 96 anni ce lo rilegge con il piacere di raccontare quel Veneto e quell'Italia di quasi un secolo fa, fissati in quello che è stato il suo confidente. In questo quaderno, durante l'anno, avremmo scritto ciò che noi pensavamo, ovvero avremmo espresso i nostri pensieri per l'escritto, quindi sarebbe stato il nostro confidente. Erano anni in cui c'era la famosa presa della conquista dell'impero in Africa. La popolana fascista era veramente immensa. Ecco la quinta elementare di nonna Francesca, quando non era ancora maestra. Più che una vocazione, l'insegnamento in quegli anni era l'unica occasione per le donne. Non c'era tante scelte a quei tempi, scuole per donne. Le magistrali, se no, non c'erano mica. Le scuole superiori per donne non ce n'erano. Le scuole superiori erano tutti i maschi, il resto di roba. Magistrali e basta. E come tutte le bambine, il punto di riferimento è stata la sua maestra. E come si chiamava? Maddalena Calamini. Era originaria di San Vito di Cadore. Com'era questa maestra? Era molto severa, ma molto esigente e bravissima. Io la ricordo veramente con riconoscenza. Così scopriamo che anche nonna Francesca imparava sugli errori segnati con il lapis blu, che poi avrebbe utilizzato per i suoi alunni. Pagine di storia e di bella scrittura, che hanno superato una guerra, la ricostruzione, il boom economico, ma anche gli anni di piombo e la rivoluzione della caduta del muro di Berlino. È la grande storia vissuta dalla vecchia maestra. Brillano i suoi occhi quando ci racconta i piccoli episodi di una quotidianità lunga quasi un secolo, scandita di bambini e di lezioni, di compiti e di interrogazioni. Ma a quei tempi insegnare era una cosa decisamente diversa da oggi. Il compito della maestra mentalità in quegli anni, in cui il primo periodo lo era, più che sia didattico, era insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto. Adesso non capisco, fra i telefonini che hanno per le mani, non hanno interessi, al di fuori di quelli. E lei tornerebbe a insegnare, se tornando indietro tornerebbe? Sì, tornerei a insegnare ma non con i bambini oggi.